Sì, non so come si fa scendere Eh, che c'è? Ha fatto la corsa nel giro del mondo Tanti secondi dove è andato a finire? L'ho perso, è morto Torinzo! Eccolo lì! E' lì che è morto Allora ti metto questo bilancio Sentiamo Ehm, posso scegliere un anno a letto e si sveglia per andare a lavoro Non accende la luce per non scegliare Ehm Allora I neri che ci sono Sette paio di calci bianchi, sette paio di calci bianchi Ehm Allora lui le deve prendere un po' Quante le prende? Oh, però C'è due Due? Ha due piedi? Due No No Perché è al buio Deve fare? Cosa deve fare? Deve prendere due? Due Un paio di calci Eh, un paio di calci bianchi? Di che colore? Ehm Ehm